A destra gli impianti a solito alta pressione, per cui luce gialla, quindi più scassissima retta cromatica, magari con una buona quantità di luce ma non stendo una buona qualità, mentre a sinistra abbiamo un impianto ai vapore di mercurio dove oltre a non essere rispettate le uniformità e quindi in questo caso una buona percettura abbiamo anche dei livelli molto scarsi e meno inazionati. Questi sono ovviamente un po' di repertorio anche in questo caso perché non sono ancora ma poi non abbiamo ancora uno storico, tutto a livello visivo, in credo, sono due esercizi di illuminazione, per cui niente luce rivolta verso l'alto, un'imporbità sul piano stradale e quantità di luce ne porta a quelli che sono gli stessi peroni. Questo è un po' di numeri progetto, per cui di fatto rispetto ai 10.261 punti di luce di stato di fatto è previsto una riqualificazione completa dei impianti, una rivoluzione di quelle che sono eventuali punti di luce in minima parte ma che sono magari ridondanti in una logica di potenziale qualità dell'illuminazione, sostanzialmente quelli inutilizzabili o non servibili perché vengono rimossi più, invece altre punti di luce che andranno invece a determinare una miglior quantità di illuminazione su impianti che invece in questo momento non sono ancora attenzialmente. Grazie a tutti.